il signore ti dia pace oggi mercoledì delle ceneri diamo inizio alla quaresima abbiamo l'occasione di fare il punto sulla nostra relazione con dio di essere sinceri con noi stessi e con lui possiamo entrare nel segreto della nostra stanza interiore per capire se e quanto ci siamo allontanati da lui se il nostro rapporto si gioca solo sul piano esteriore dei riti celebrativi se ci mostriamo al mondo con l'etichetta di credenti o meno se viviamo la preghiera non per godere della presenza salvifica del signore ma per farci notare dagli altri se ci esercitiamo nelle opere di carità non per il bene del prossimo ma per sentirci dire che siamo bravi ecco ora il momento favorevole da oggi abbiamo un tempo favorevole per mettere nelle mani di dio i nostri peccati e per lasciarci riconciliare con lui durante questa quaresima abbiamo l'opportunità di fare verità sui motivi che ci spingono a vivere e ad entrare in relazione con gli altri sulle intenzioni del nostro cuore quando facciamo ogni cosa quindi cosa ci muove scrivi su un cartello questa piccola frase per amore poi appendilo nella tua camera così da ricordare ogni giorno ciò che ti spinge a vivere buona quaresima